Sono Monica Taccini e lavoro alla sede Istat di Venezia. In statistica i dati sono tanti e i calcoli complicati. Serve abilità con i software per poterci lavorare. Da qualche anno poi i dati non sono più solo in tabelle grafici, ma anche su mappe. Gli anti-system con cui collaboriamo a volte ci chiedono un aiuto proprio su questi aspetti. Con alcune colleghe così abbiamo organizzato dei laboratori sull'uso dei software per elaborare i dati, farne una sintesi e rappresentarli in modo che siano comunicativi. Preferiamo programmi gratuiti e open source alla portata di tutti, per esempio QGIS. Pur partendo da un'offerta già pronta e consolidata nel tempo, i contenuti sono discussi con i partecipanti in modo da adattarli il più possibile alle loro esigenze.